mi trovo a piazza fontana più volte vi ho fatto vedere lo stato vergognoso della fontana oggi voglio farvi rivedere per l'ennesima volta lo stato pazzesco in cui si trova il si trova il manto stradale quello che resta del manto stradale quello che restano delle chianche quella specie di commistione schifosa tra chianche asfalto terra battuta e quant'altro qui c'è una attività commerciale ci sono delle attività di ristorazione e mi domando se si può in una città civile vivere in queste condizioni perché una persona si avvicina per andare per camminare per passeggiare per andare in un ristorante e al 90 per cento rischia di beccarsi una sonora caduta perché qui guardate cosa c'è chianche completamente dissestate addirittura armature di ferro che fuoriescono sterrato un mix di asfalto cioè è vergognoso caro assessore ciraci caro sindaco è vergognosa una situazione del genere e ci troviamo proprio nel cuore della città vecchia in prossimità appunto di piazza fontana della fontana in un'area che dovrebbe prosperare per turismo e invece cosa si fanno ci sono proprio le trappole quasi per far cadere le persone guardate un po sembra una cosa pazzesca è una cosa pazzesca guardate qui se una persona non solo un anziano ma anche un giovane sta camminando entra in un ristorante e si ritrova questo stato vergognoso e allora mi domando ma il sindaco melucci l'assessore manzulli hanno mai girato l'italia hanno mai girato la puglia ma vedono come effettivamente il il borgo antico di tanti comuni viene trattato come una bomboniera viene coccolato viene reso il più presentabile possibile per la cittadinanza per i turisti cosa che come vedete qui non accade a taranto e questa situazione è una situazione stratificata da anni dico anni allora melucci già nella scorsa consigliatura col melucci 1 tu non hai fatto niente e continui a non fare nulla continui caro assessore ciraci invece di farti i selfie e i video per le cose ordinarissime che fai muoviti 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 dalla sedia e vedi quello che succede qui guarda questa è un'immagine civile questa è un'immagine di una città civile non penso proprio caro assessore ciraci e in questo modo caro manzulli dobbiamo promuovere lo sviluppo economico dobbiamo promuovere le attività produttive ma imparate a governare imparate ad amministrare questa è la vostra dimensione una dimensione di una città decadente e dissestata pari alle vostre capacità politico amministrative di un'immagine civile